Allora, sul modello di leadership e il modello organizzativo credo che siano stati fatti i maggiori cambiamenti. Mi spiego meglio. Dal punto di vista della leadership era chiaro che il modello aveva funzionato molto bene negli anni in cui bisognava creare una rottura col sistema passato, per cui in due abbiamo trainato l'azienda aiutati ovviamente dalla forte spinta del gruppo sia dal punto di vista del supporto finanziario con gli investimenti ma innanzitutto dal punto di vista culturale. Quindi facendoci forti di questo vestito culturale che era sicuramente importante in due siamo riusciti a tirare fuori l'azienda dai gangli in cui era inviluppata col passato. È chiaro che a un certo punto l'azienda è cresciuta talmente tanto che quel modello che ci aveva portato lì era anche il modello che ci avrebbe distrutto perché eravamo il doppio e continuavamo a pensare che bastassero tre o quattro persone per andare avanti. Devo dire che in questo senso siamo stati credo abbastanza modesti dal capire che bisognava fare un passo indietro e l'abbiamo fatto. Il problema è che ora dobbiamo, oltre a fare un passo indietro, spingere affinché i nostri diretti collaboratori abbiano un ruolo sempre più autonomo. Stiamo facendo varie cose in questo senso, dalla formazione al coaching, ma secondo me un elemento che ci sta aiutando tantissimo è la riorganizzazione secondo processi. Stiamo passando da una logica che in passato era molto funzionale, quindi legata alle normali funzioni che si ritrova in una qualsiasi azienda, a una logica per processi, dove il vero capo è il cliente successivo. Quindi il mio output viene innanzitutto valutato dallo step successivo del processo. In questo senso, oltre ad aver ridisegnato i processi, l'organizzazione in questo modo, quindi attraverso una chiara definizione dei processi, abbiamo anche creato dei KPIs e anche un sistema di valutazione delle performance che rispecchia questo tipo di visione, per cui oggi sempre più la valutazione delle performance è legata all'input che riceviamo dai clienti interni e non necessariamente dal direttore responsabile. E questo a me sembra che sia un po' il tassello che mancava, perché ovviamente sulla carta si può fare di tutto, si può disegnare un'organizzazione per funzioni, per processi, ma poi nel quotidiano devi creare degli elementi tali per cui le persone si fidino e capiscano che realmente tu come responsabile vuoi avere meno potere decisionale e stai effettivamente delegando la valutazione della qualità dell'operato dei tuoi collaboratori ad altre persone. Questo non è facile da ottenere, ci stiamo ancora lavorando, però è una strada che non possiamo abbandonare, sarà pesante ma non possiamo abbandonarla.